Zoe Cristofoli e Fabrizio Corona Zoe Cristofoli la nuova compagna di Fabrizio Corona, sul web ormai non si parla d'altro Si tratta di una modella, che ha già avuto una relazione con il portiere del F.R.O.S.I.N.O.N.E. Francesco Bardi Stando a quanto riportato dal S.E.T.T.I.M.A.N.A.L.E. d'Iva e Donna, l'amore tra Corona e Cristofoli è scattato in Puglia, dove l'ex re dei paparazzi si trovava in compagnia d'E.F.I.G.L.I.O.O. Carlos Zoe Cristofoli La modella ha 241.000 followers su Instagram, ed ha il corpo ricoperto dai tatuaggi Non è tequila se ci togli il sale. E non è amore se dura due ore. .a, diesis.work diesis lp22 .a, diesis.work diesis lp22 W.B.R.A.K.E., Chiocciola Adale Sottolineato ufficial O.A.P.O.S.C.A.R.E. by Zoe Cristofoli Chiocciola Zoe Sottolineato Cristofoli O.G.U.L. 31 2018 A.Z.I.M.P.D.T. Quando il destino accomunea due persone dopo la recente rottura Con Silvia Provedi, certificata in un video che in questi giorni circolava su Instagram, Corona ha immediatamente trovato il suo nuovo amore in Zoe. Coincidenza o meno, anche l'influencer ha da poco rotto con il suo ultimo partner. Luca Danese, uno dei fondatori della Apache Customs. La Tigre di Verona lo ha conquistato con i suoi occhi da gatta in Puglia. Non ha C.A.S.O. Zoe C.R.I.S.T.O.F.O.L.I. e soprannominata L.A. Tigre di Verona. Il S.E.T.T.I.M.A.N.A.L.E. Diva e D.O.N.N.A. racconta come sarebbe scoppiato l'amore tra i due. In Puglia l'ex agente dei paparazzi si trovava a trascorrere le sue prime vacanze fuori dal carcere insieme al figlio. Corona e Zoe si sarebbero conosciuti per lavoro.E non a caso, la ragazza era già apparsa sul profilo dell'ex paparazzo. Indossava una maglia del marchio di abbigliamento che lo stesso Fabrizio ha lanciato sul mercato. Adesso non si aspetta altro che la verità dai diretti interessati. Certo, sarebbe veramente un colpo di scena visto che l'ex compagno di Silvia Provvedisi è appena lasciato con quest'ultima. Ma tutti noi lo sappiamo, Corona ci ha abituato a simili colpacci. . .